Per me è un piacere presentarlo perché conosco Riccardo da moltissimi anni, dai tempi in cui lui era alla Regina. Ho sempre avuto una stima del professionista e nel tempo abbiamo anche consolidato un rapporto, che ci ha visto in società diverse, però facendo qualche operazione insieme ho avuto modo di conoscerlo anche sotto il profilo operativo. Viene come direttore sportivo responsabile dell'area tecnica e con lui abbiamo acquisito uno staff di altri professionisti molto preparati, anche loro sono persone che conosco operativamente da molti anni, anzi in passato qualcuno aveva anche pensato prima che si costruisse questo team di portarlo nelle società dove lavoravo e con loro svilupperemo quindi un programma legato alla riorganizzazione dell'area sportiva, soprattutto per quanto riguarda i processi che vengono seguiti nell'ambito della valutazione e dell'acquisizione dei calciatori. Hanno una metodologia di lavoro molto moderna in cui c'è un'ampia condivisione delle scelte, anche se come ho detto sempre la decisione finale sul fatto tecnico spetta una persona sola, che poi è il direttore sportivo, ma questa condivisione ci consente di verificare tutti gli aspetti e delle trattative strada facendo, sia per quanto riguarda quelli prettamente economici che quelli invece prettamente tecnici che devono passare per forza in una condivisione con l'allenatore. Il modello in cui si seguiva spesso in passato che le società fanno la squadra, e gli allenatori le allenano, credo che sia un modello ormai non praticabile. Abbiamo bisogno di una condivisione proprio perché l'allenatore è parte integrante del percorso di valorizzazione delle risorse, sia sotto il profilo tecnico che sotto poi quello anche economico, perché il nostro club è un club ancora che può essere visto per un po' di tempo come un club di passaggio, cioè fermarsi, completare un processo di valorizzazione e magari poi per una naturale differenza di economics andare in altri club. Però quello che ci interessa è il percorso tecnico, quindi valorizzazione di risorse tecniche, anche perché seguendo quello che è stato il percorso, il processo di investimenti fatto all'inizio, abbiamo ancora un capitale di giocatori che può essere sotto il profilo tecnico opportunamente valorizzato, e il ministro Donadoni ha già iniziato a lavorare in quest'ottica e credo che proseguirà nella stagione seguente. Non volevo ritornare su temi abbastanza conosciuti a tutti voi, però penso che sia doveroso un'ulteriore precisazione, perché spesso su parte, devo essere sincero, dei media continuo a leggere di operazioni, di budget, di cifre, che non trovano corrispondenza nella realtà e quindi sono costretto nuovamente a ritornare sul tema. Per quanto riguarda gli obiettivi, gli obiettivi sono quelli che abbiamo, gli obiettivi sportivi, quelli che abbiamo sempre detto. Poi alla fine se vogliamo parlare di decimo, undicesimo, ottavo, nono, sapete che la differenza è di qualche punto. Quello che vogliamo fare è migliorare ciò che abbiamo fatto l'anno scorso, quindi fare un campionato posizionandoci in una ranking finale più alto rispetto a quello che abbiamo conseguito l'anno scorso, proponendo un calcio divertente che ci aiuti a consolidare, a rafforzare il rapporto sempre, che oggi è comunque molto stretto fra il club e i propri tifosi, e quindi cercando di riportare qualche spettatore sempre in più allo stadio dall'area. Sotto il profilo strettamente economico, indicare questi obiettivi non significa che noi non siamo ambiziosi, perché noi vogliamo essere competitivi e cerchiamo sempre di fare il meglio, perché abbiamo a cuore quelle che sono le sorti sportive del club. Però poi c'è l'altro tema, quello economico, su cui sono, ripeto, costretto a ritornare per chiarire alcuni punti. Noi ci siamo sempre posti in maniera, direi, trasparente nei confronti vostri, nei confronti della tifoseria, su quelle che sono, diciamo, le risorse messe a disposizione e come vengono impiegate. Quindi ribadisco ancora alcuni concetti basilari. Mi dispiace parlare sempre di numeri, ma talvolta sono costretto a farlo. Cioè noi la proprietà ha investito i primi 40 milioni per mettere in sicurezza il club e finanziare il ritorno in serie A. Quest'anno, a fine anno, il cash flow versato dall'azionista sarà intorno ad altri ulteriori 33 milioni. Parte di questi andranno a finanziare la prima parte delle acquisizioni che abbiamo fatto durante il mercato estivo ed invernale dell'anno scorso che comportano, ripeto, impegni superiori ai 45 milioni, ma a parte vanno a finanziare in una proporzione quasi diretta, 50-50, la gestione operativa del club. Perché oggi il club ha, per dirla in maniera molto semplice, ovviamente dei costi superiori ai propri ricavi. Perché? Perché comunque vuole mantenere un posizionamento sportivo più alto di quello che i ricavi oggi gli consentirebbero, perché gran parte di questi costi sono costi per gli emolumenti detesserati. Quindi noi abbiamo strategicamente aumentato il livello degli emolumenti proprio per alzare il livello di competizione, in attesa che ovviamente poi lo sviluppo dei ricavi societari ci consenta di poterlo finanziare senza ricorrere all'azionista. Però questo è un piano già definito con l'azionista di risorse che l'azionista ha già destinato al finanziamento di questo percorso che termina nella stagione 2018. Quindi per i prossimi due anni le risorse sono state già definite, che erano quelle del piano iniziale. Per cui non c'è spazio per budget diversi, quindi lo spazio è quello che riusciremo a trovare nell'ambito del finanziamento della gestione operativa, quindi o riducendo in parte questo sbilancio fra costi e ricavi o ricorrendo ovviamente a quelle che sono le operazioni legate ai trasferimenti dei giocatori. Ho sempre detto che comunque uno spazio ulteriore ancora c'è per piccoli investimenti, molto inferiore rispetto a quelli già fatti nel primo anno dove ovviamente oggettivamente scusate, data l'arrivo diciamo in Serie A in ritardo comunque si è dovuto correre per allestire una squadra dovendo magari rinnovare completamente la rosa dei calciatori però lo spazio è uno spazio ridotto. Ho detto sempre che se nel caso arrivassero qualche offerta sui livelli che noi consideriamo ottimali per poter far uscire qualcuno dei nostri tesserati, a quel punto il budget verrebbe completamente rivisto e riempiegato in altre operazioni con l'obiettivo di arricchire di arricchire il club sotto il profilo tecnico. Questo fino al 2018. Da 2018 in poi ci risiederemo con l'azionista, elaboreremo un nuovo piano con altri obiettivi. Le condizioni essenziali per sviluppare un nuovo piano molto più ambizioso e con investimenti diversi ho sempre detto sono due. Primo le strutture, per cui lo stadio che deve rappresentare un salto di discontinuità dei ricavi e portarci sul livello di competitività diverso rispetto a quello che abbiamo oggi. Secondo una riorganizzazione della Lega soprattutto per quanto riguarda la vendita del prodotto televisivo oggi se vedete i fatturati del calcio italiano la Premier League arriverà a 5.8 miliardi di euro di fatturato contro malapena i due che fa la Lega italiana ma soprattutto un cambiamento della distribuzione delle risorse è impensabile che questo sistema distributivo possa favorire investimenti delle nuove proprietà nel calcio non solo quella del Bologna ma anche di tutte quelle altre che hanno interesse di investire in questo settore per sviluppare un volano positivo fra risultati sportivi e crescita economica del club. Ci vuole quindi un cambiamento radicale sotto questo aspetto lavoreremo in Lega, abbiamo del tempo per farlo spero che se in Lega non si trovi un accordo intervengano anche le istituzioni il governo modificando la legge Melandri che ha creato questa situazione di consolidamento di rapporti di forza oltre a quello che già la televisione con la mediaticità del calcio ha portato come valore dei brand commerciali però il secondo step è legato a questi due importanti fattori quindi noi abbiamo sicuramente delle ambizioni siamo un club che vuole far sempre meglio nel settore sportivo e riportare come dice il Presidente di Bologna ai livelli dove il Bologna era nel passato ci vuole tempo, ci vuole correttezza nei confronti dei tifosi che debbano avere le giuste informazioni e spesso chiedo anche a voi ovviamente di essere tramite di questo passaggio di informazioni nei confronti della tifoseria che deve essere informata secondo me correttamente opportunamente su quale sono risorse, disponibilità e obiettivi sportivi ed economici del club